Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e dopo sì, purtroppo dopo tanto tempo eccoci qui in un nuovo video Cosa andremo a fare in questo video? Molto breve, molto piccolo perché sarà forse l'ultimo video su questo canale in cui ragazzi vi annuncio appunto l'apertura del mio nuovo canale chiamato Luke Semplice, semplice, facile, facile Il link lo trovate in descrizione Ci sono già 4 iscritti come vedete perché l'ho pubblicato sul canale Telegram in esclusiva Detto questo ragazzi vi invito ad iscrivervi al nuovo canale Questo è un video molto breve perché i video interi, i gameplay ci saranno sul nuovo canale Dove pubblicherò tra qualche giorno un video in cui vi chiederò il format che volete Detto questo like, commentate, condividete ma soprattutto iscrivetevi al nuovo canale Ciao a tutti ragazzi